Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Stefania o Love for Smell. Bene, ragazzi, oggi ho tre fragranze fra le mani che sono pazzesche e che cosa hanno ancora di più pazzesco? Il fatto che hanno un costo accessibilissimo e sto parlando di nicchia. Ragazzi, quella che costa di più costa 45 euro, dunque non lamentatevi perché vi sto proprio per mostrare il non plus ultra della nicchia italiana e non. Parto con la prima fragranza, io non vedevo l'ora di parlarvene, se ne sta già chiacchierando abbastanza perché è un profumo che da qui in avanti, secondo me, sentiremo nominare spesso e volentieri. E perché? Perché è fantastico. Lui è per gelato di Teodoro Scalotinis. Anche qui, che cosa, cos'è questo profumo? Questo profumo è la quintessenza del gourmand estivo per eccellenza. Questo però, ragazzi, è un gelato che non ti aspetti. Perché? Perché c'è questa nota fresca in apertura che vi fa venire in mente letteralmente quella che è la sensazione di freddo che dà il gelato. Quando lo andentate, sentite per l'appunto questo sentore freddo. Arriva poi quella che è la fragranza della pera stessa. È una pera che io non sento né matura né troppo dolce. Questa per me è una pera croccante. Dunque, non è un gelato estremamente stucchevole come possono esserlo, per esempio, alcune creme. No, questa è proprio una bella frutta, quasi come se fosse una granita alla pera. I Calotinis, c'è da dire che secondo me, sono pazzeschi. Perché il rapporto qualità-prezzo è assolutamente altissimo. Costano veramente poco e la qualità di questi profumi è eccelsa. La si trova in poche altre case. E parliamo di nicchia. Questa è nicchia grecca, ma pur sempre nicchia, ragazzi. Quello che mi piace è la fase del dry down, perché nella fase del dry down viene fuori quello che è il sentore biscottoso della cialda del cono gelato. È lievemente burrosa, lievemente cremosa e c'è appunto tutto questo bel sentore vanigliato. È un profumo estremamente avvolgente, ma al tempo stesso è un profumo molto fresco e molto fruttato. Un profumo unisex, con una durata moderata, non è uno di quei profumi che proietta moltissimo. È più un profumo che vi rimane appiccicato addosso. Ma è golosissimo ed è perfetto per questa stagione. Con il caldo questo profumo dà il meglio di sé. Se cercate un profumo per tutti i giorni, un profumo fresco, un profumo piacevole, lattonico, che ha anche quasi delle sensazioni acquatiche, perché proprio è un profumo che denota freschezza a 360 gradi. Io vi consiglio vivamente lui. Calotinis non sbaglia mai. Per gelato. La seconda fragranza del giorno, della quale ho l'onore di parlarvi per prima, perché ho potuto testarla per prima, è dei Mori di Pestum. Con il primo profumo che vi ho presentato io stessa per prima qui su YouTube, ovvero latte di miele e bufala, c'è stato veramente il disastro. Potete constatarlo anche voi sotto i miei video, non vi sto dicendo la bugia, ragazzi. L'avete comperato in tantissimi e in tantissime e ne siete stati entusiasti. Oggi voglio parlarvi per l'appunto di una nuova creazione loro che è golosissima, cioè veramente è qualcosa di divino. È per l'appunto Milk and Sweet Candy. Questo profumo è una bomba glicemica. Dunque, io vi avverto, se non amate i profumi dolci, lui non fa per voi, perché non è dolce, è dolcissimo. Questa è la bomba glicemica dell'estate 2024. Mora, fragola, zucchero filato, miele del cilento, caramella, vaniglia, muschio, ambra, fiori d'arancio, rosa bulgara. Ragazzi, prendete un barattolino del miele del cilento, ok? Ci buttate dentro tantissime fragole, tantissime mole, proprio frutti di bosco in quantità copiosa, ma veramente tanti. E richiudete il vostro bel barattolino di miele. Dopo un paio di giorni, che cosa fate? Riaprite questo barattolino di miele e non contenti, ci aggiungete una manciata di caramelle tritate e dello zucchero filato. Ne prendete una bella cucchiaiata e la portate alla bocca. Questo è quello che sentite quando vi sfruttate questo profumo. È intensissimo, è cremoso, è pastoso. Ha una persistenza ed un sillage che, cioè, nemmeno in un extraire de parfum vi dura all'infinito. Cioè, è una cosa assurda. Sentite proprio tutta quella che è la dolcezza mellifua del miele, accompagnata da questa nota caramellata, che sa letteralmente di caramella, ma caramella all'ampone, alla fragola. È divino per chi come me, e come penso molti altri di voi, ama i profumi gourmand, è il profumo da testare. Io ve lo dico e ve lo ripeto, che poi non mi si dica che sono bugiarda, è dolcissimo. E quando dico dolcissimo io, fidatevi perché lo è assolutamente. Non lo so, ragazzi, cioè, questi profumi dei mori di pesto, ma sono divini. Costano questo a 30 euro, se non mi sbaglio. Dunque, il prezzo è piccolissimo perché abbiamo anche 50 ml di fragranza. È facile anche da portare in giro perché sono delle boccettine piuttosto facili anche da infilare nelle borsette. Cosa volete di più? E vi dirò anche un'altra cosa, proprio per aggiungere carne al fuoco. Arriverò con altre fragranze che i mori di pesto hanno fatto appunto per noi, che sono succosissime e golosissime. Cioè, questa casa, ragazzi, è qualcosa di pazzesco. Hanno dei prodotti. Ho testato anche un sacco di altre cose, tipo burro cacao, solari. Che profumo, ragazzi, che prodotti e che profumo. Però intanto oggi parliamo di lui, che è Milk Appunto & Sweet Candy. L'ultima fragranza, sempre di nicchia e sempre con un prezzo basso, basso, basso. Questa l'ho ripetita su Amazon. Parliamo dal fatto che... Cioè, che cos'è questa boccetta che è stupefacente? Magusen Star. Mi avevano attratto le note iniziali, ananas e fico. Nel cuore della fragranza, invece, troviamo cocco, latte di cocco e iris. Sul fondo troviamo vaniglia, pralina, fava tonca. Abbiamo ambra, cedro ed eliotropio. Allora, io l'ho spruzzato questo profumo. E lo sto anche rispruzzando. Mi ha ricordato immediatamente un'altra fragranza. Innanzitutto, proprio passo col dirvi che le note iniziali fruttate non le sento minimamente, proprio zero, assolutamente zero. Dunque, né ananas né fico. Questo è un profumo, secondo me, che sa di borotalco. È una composizione in cui c'è una forte componente talcata, data per l'appunto dalla presenza dell'iris, che va a braccetto proprio con l'eliotropio. Si sente anche tantissimo quella che è la presenza del latte di cocco. Ed è anche questo un profumo molto dolce. Ma c'è qualche cosa che a me ricorda il profumo del legno che sta bruciacchiando. Sì, ragazzi, a me questo profumo ha ricordato una versione quattro stagioni di By the Fireplace di Maison Margiela. Se è in quel profumo che è prettamente invernale, non mi sognerei mai e poi mai di portarlo d'estate. Predomina per l'appunto questa nota di legno bruciacchiato e di castagna. Qui invece predomina quella che è la componente talcata. Si sente tantissimo il sentore della pralina accompagnato a quello del latte di cocco. Però c'è qualche cosa che ricorda il sentore del legno. Se vi piace By the Fireplace di Maison Margiela, voi amerete questo. Ma non perché sia un dupe, perché no, non lo è. Però è su quel filone di profumo. Io penso, io l'ho comperato ovviamente in blind buy, incuriosita dalle note iniziali, come vi dicevo, dell'anamasse del fico che assolutamente non riesco a percepire. Ma questo profumo, secondo me, può essere perfettamente indossato durante tutto il tempo dell'anno. Forse splenderà di più nei mesi freddi. Penso che a partire da settembre inoltrato e con i mesi freddi darà il suo massimo splendore. Perché anche la componente pralinata è molto forte. Però ragazzi, questa è una chicca da avere in collezione. Cioè, a parte la boccetta che di per sé, secondo me, è fantastica. Cioè, è veramente bella ragazzi. È veramente molto bella. Ma proprio per la fragranza in sé stessa, se vi piacciono i profumi pudre, dolci, questo è un mix fra un gourmand e non gourmand, direi. Questo è ciò che fa per voi. Io, ragazzi, per oggi ho finito. Vi ho mostrato le mie tre fragranze. Sono, per me, nuove. Nel senso, a parte per gelato, che ovviamente è super chiacchierato al momento, è un profumo virale. Gli altri due, cioè, a parte quello dei Mori di Pestum, che ho avuto la possibilità. E ringrazio i Mori di Pestum. Stavo dicendo, per l'appunto, che ho avuto la possibilità di presentare il profumo dei Mori di Pestum per prima. Spero di avervi anche fatto vedere un profumo nuovo, ovvero quello di Mabusem, del quale non sento parlare molto. E che, secondo me, è veramente un profumino iper mega valido e da testare. Detto questo, ragazzi, spero di trovarvi anche nel mio prossimo video. Se avete suggerimenti, come sempre, o qualche cosa da consigliarmi, un commentino qui sotto. Se vi va anche, lasciatemi un like e ci vediamo prestissimo. Un bacio. Grazie. Grazie.